La moda degli integratori alimentari, una ricerca universitaria, smentisce che possano sostituire frutta e verdura fresche. Cinzia Fiorato. Frutta è meglio. La notizia non avrebbe sorpreso le nostre nonne che con quella mela al giorno avevano capito bene ciò che oggi ci dicono i ricercatori universitari. Per la precisione è il Dipartimento di Scienze Alimentari dell'Ateneo di Milano ad aver messo mano alle provette per dimostrare che sì, gli integratori vitaminici sono assimilati dal nostro organismo ma sono comunque meno efficaci di arance, pere, pomodori, verdure e quant'altro. Funziona così, per esempio se mangiamo un'arancia i livelli di vitamina C nel sangue aumentano. La stessa cosa succede se prendiamo un farmaco supplemento ma in presenza di un agente che altera il DNA come il perossido di azoto la vitamina assimilata dall'arancia ne contrasta l'azione, quella acquisita dal farmaco no. Dunque a parità di presenza nel sangue la vitamina naturale lavora, quella chimica è meno combattiva. Integratori possono essere utili in soggetti che per ragioni varie hanno una malnutrizione, non riescono a nutrirsi completamente in corso di malattie, in corso di determinate terapie. Questi sono necessari in questi casi gli integratori ma con l'alimentazione normale, seguendo quello che è la dieta mediterranea non abbiamo assolutamente bisogno di integratori di nessun tipo. Gli scienziati non sanno spiegarci ancora il perché di questo fenomeno. È possibile, dicono, che nell'arancia, tanto per continuare con lo stesso esempio, sia la combinazione di vitamina C, zucchero e tutte le altre sostanze che contiene a proteggere il DNA. Controtendenza dunque rispetto a certe mode che hanno portato il mercato degli integratori a muovere 163 milioni di euro l'anno.